Ragazzi buongiorno, anche oggi un super video per voi, mi sto divertendo troppo in questo periodo ma oggi in questo video voglio che siate voi a rispondere, ormai siete bravissimi io la risposta la so già da tecnico o saccente quale sono però secondo me anche voi a forza di seguire i miei video siete diventati bravi e quindi aspetto un vostro commento per andare a capire se è più forte il secco oppure il grosso adesso vi dico anche le caratteristiche del secco e le caratteristiche del grosso perché andiamo a prendere dei casi reali e siete poi voi a dire un attimino chi è il più forte mi raccomando commentate, spolliciate all'insù se generalmente mi seguite spolliciate in basso se invece siete dei seguaci di ciarlatani che vengono ogni tanto sul mio canale per imparare qualcosa di allenamento ma oggi anche voi potete rispondere, ditemi anche voi la vostra ma cercate di essere obiettivi secco contro grosso allora facciamo così, il secco ha queste caratteristiche non si allena con i pesi generalmente, quindi no pesi pesa 60 kg non esegue quindi determinati esercizi da una vita o li ha visti ma non li sta allenando fa di panca piana da freddo 120 kg ok, quindi queste sono delle caratteristiche importanti non si allena con i pesi non fa panca ma quando ha provato a fare panca poi magari vi mostro anche un video di un secco che è riuscito a fare un 120 kg brutto però è riuscito a staccare 120 kg di panca da freddo quindi senza neanche una serie di riscaldamento ha messo quel peso freddo e è andato a tirare 120 kg dall'altra parte abbiamo il nostro grosso il nostro grosso si allena da 40 anni da 40 anni ha un peso all'incirca di 90-100 kg il nostro grosso riesce diamogli il beneficio del dubbio a fare un 160 kg di panca brutti, anche qua brutti non bellissimi brutti 160 kg di panca piana però ovviamente è da una vita che sfrutta i suoi metodi di allenamento e fa da 40 anni panca piana ed è arrivato in 40 anni a sollevare 160 kg quindi direi un buon risultato da qua abbiamo uno che non si allena fa 120 kg di qua abbiamo uno che si allena da 40 anni con dei suoi metodi che vengono definiti come migliori al mondo e riesce a fare, secondo me, a malapena 160 kg anche perché allora, in forza assoluta vabbè, ma noi siamo qua a vedere un po' la relazione quindi anche un po' la forza relativa balza all'occhio che questo ragazzotto qua 60 kg riesce quasi a sollevare per due volte il suo peso corporeo questo soggetto non arriva al per due perché al per due dovrebbe fare un 180 o almeno un 200 kg se fosse veramente forte in più, questo fa panca quindi la fa da 40 anni questo non la fa molto probabilmente se questo soggetto si allenasse facendo panca piana in maniera regolare magari una volta la settimana probabilmente questo valore io sono sicuro che arriverebbe intorno ai 140 kg invece questo soggetto non può più aumentare perché effettivamente già è al massimo delle sue potenzialità quindi poi abbiamo un 140 quindi sarebbe persino un più un valore superiore al per due ma la domanda è a voi secondo voi chi è che ha più forza relativa in proporzione al peso in proporzione a quello che sta facendo nell'esercizio della panca piana il seccherello o il grosso che si allena e utilizzando i suoi metodi miracolosi ma poi tanto miracolosi se fa solo questo non lo sono secondo voi lascio a voi qua il commento io la risposta la so già dopo magari stacco e me la vado a scrivere comunque aspetto il vostro commento e magari anche due motivazioni in quello che andate a dare come verdetto finale grazie di avermi seguito anche oggi oggi è stato un video un po' alla leggera per scherzare su secco e grosso ma come dico sempre allenatevi per quello che sono le vostre necessità per quello che sono i vostri obiettivi non c'è da fare il confronto tra il secco e il grosso tutti noi andiamo bene però effettivamente ognuno di noi nella propria testa ha un obiettivo da andare a raggiungerlo inseguitelo datevi degli obiettivi realistici fate sì che l'allenamento possa diventare per voi il vostro stile di vita e tutto questo donerà il vostro fisico secondo me tantissima salute e tantissima efficienza fisica ci si vede ciao ciao ma che cosa stai aspettando sei ancora qua dai vieni sul mio sito umberto miletto punto conti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento alimentazione programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare dai corri subito grazie a tutti grazie a tutti